Sì, dopo che la Lega ha verificato che non sussistono condizioni tali per poterla disputare domani, con il regolamento prevede via primaria, via subordinata, se condizioni non ci sono uno si rinvia perché sarebbe stato sciocco, è stato esservito un'ora e mezza di analisi e di attenzione sulle tradizioni biologiche o le certificazioni del caso che è arrivata e quindi è riferita dalla Lega. Ci sono quei problemi che ci vediamo Grazie